Da sabato mattina è veramente iniziato un nuovo corso della provincia di Vibo Valenza, perlomeno dal punto di vista amministrativo. Infatti si sono compiuti gli ultimi atti formali, e cioè la convalida di tutti gli eletti e il giuramento del presidente Andrea Niglia, che hanno consentito l'insediamento ufficiale del Consiglio. Ora non ci sono più ostacoli nella gestione ordinaria e straordinaria dell'ente. Il clima era decisamente sereno, al di là delle contrapposizioni e dei commenti usciti subito dopo il voto. L'intento palesato sia dagli scrani di maggioranza che da quelli di opposizione è stato quello del risanamento dell'ente attraverso scelte condivise in un fattivo spirito di collaborazione. Proposito fatto proprio anche dal neopresidente della provincia. Oggi si deve superare quella prima fase, oggi si deve andare solo avanti, ci deve essere un clima di collaborazione comune a tutti, con un solo linguaggio, che è quello di dare una svolta e una spallata al passato. Un consiglio formato da dieci consiglieri e non più ventiquattro, eletti da e tra gli amministratori dei cinquanta comuni che formano la provincia, che ha parlato quasi all'unisono, mettendosi a disposizione del nuovo presidente. Non solo hanno dichiarato la loro disponibilità e collaborazione, ma hanno dichiarato il coraggio di partire, di far ripartire questa macchina burocratica che siamo molto indietro. Diciamo che siamo a macchina spenta. Che provincia sarà? E mi auguro che sarà una buona provincia, una provincia che ha tutte le buone pratiche per essere una buona provincia.